Questa amministrazione pensa che l'ombelico di Vicenza sia Piazza dei Signori, in realtà noi che veniamo dal territorio dei quartieri riteniamo che sia quello il punto focale della vita del cittadino. La cultura non è solo Piazza dei Signori ma sono anche le iniziative sul territorio, ci riferiamo ad esempio alla rivitalizzazione dei teatri e dei quartieri che sono una risorsa importante, gli spettacoli musicali e soprattutto le feste rock di quartiere che noi vogliamo sostenere per i giovani.